Buongiorno, nonostante la neve siamo qua a presentarvi il primo modello 2013 di Rocky Mountain è la Rocky Element da 29, è la affianca la 26 che era nata fino adesso, ruote da 29 come dice come ho detto, telaio in carbonio, si è cercato di costruire il telaio che fosse il più leggero possibile ma mantenendo la rigidità per cui era famosa la ruota da 26, geometria race compact tuner, la sospensione smooth link, caratteristiche principali, 90 di escursione, sospensione smooth link che ha la caratteristica di essere il più lineare possibile con una resistenza comunque ai fine corsa, non è un giunto orste nonostante molti continuino a chiederlo perché perché è sopra il giunto, è sopra la linea del perno posteriore quindi non è un giunto orste, costruzione smooth link, la costruzione smooth link non è altro che anziché utilizzare una specie di camera d'aria per togliere la resina all'interno viene utilizzata una sostanza rigida che permette di avere un telaio con molta meno resina, tutti gli angoli vengono svuotati dalla resina stessa e questo permette di avere un maggior controllo di qualità e delle dimensioni della spessore del telaio e minor peso